Naturalmente ringrazio il professor Carinci, gli organizzatori, gli amici Sandro Mainardi e Alberto Pizzoferrato, la collega Montanari per questa opportunità di intervenire in questa sessione e di intervenire in realtà su un tema che si colloca al crocevia degli interventi che mi hanno preceduto. In un certo senso rappresenta una cartina di tornasole delle tematiche inerenti all'organizzazione, il ruolo del dirigente pubblico, i contenuti della contrattazione collettiva e questo mi consentirà di poter accelerare alcuni aspetti della trattazione proprio perché in qualche modo sono già stati anticipati nelle interventi che mi hanno preceduto. Intanto da cosa vorrei partire, ma molto brevemente, tratteggiare come si è evoluta la materia della valutazione. Per gli addetti ai lavori il tema della valutazione era addirittura già presente nel DPR 748 del 72, quello che ha istituito la dirigenza, quindi una concezione della stessa in funzione del risultato legato alla responsabilità dirigenziale era presente fin nel pubblico impiego. Nel lavoro pubblico contrattualizzato potremmo distinguere tre fasi di disciplina del tema della valutazione. Il primo è certamente collegato alle riforme degli anni 90, c'era l'articolo 20 del decreto 2993 ma poi la declinazione più compiuta è stata il decreto legislativo 286 del 99 che ha sostanzialmente recepito il modello del performance management in coerenza con la volontà di costruire una figura datoriale ispirata al manager di settore privato. In questa dimensione il controllo è soprattutto concepito come un controllo di gestione che si affianca ai tradizionali controlli amministrativi in quanto vuole realizzare o vuole verificare la realizzabilità delle famose tre E, efficacia, economicità e efficienza della pubblica amministrazione che erano la declinazione del buon andamento perseguita dal legislatore degli anni 90. La seconda tappa invece è rappresentata dalla normativa della riforma Brunetta quindi il decreto legislativo 150 del 99 che si ispira invece ad una logica di valutazione strategica o di accountability esterna quindi aggiunge questa visione della valutazione come impatto dell'azione dell'amministrazione nel contesto nella quale si va ad inserire e quindi istituisce il sistema della valutazione della performance e il ciclo di gestione della performance che vede coinvolti organismi interni ma anche organismi esterni ricorderete il ruolo della Civit poi passato al dipartimento di funzione pubblica e quindi mantenuto a livello di coordinamento di sistema delle pubbliche amministrazioni l'ultimo passaggio è rappresentato dai decreti della riforma Madia quindi 74 e 75 che hanno in realtà mantenuto una maggiore linea di continuità con la riforma del 2009 perché il tema dell'accountability esterna è fortemente incentivato basti pensare all'articolo 19 bis del 150 secondo il quale l'utente esterno addirittura può interagire direttamente con l'organismo indipendente della valutazione quindi un rafforzamento della dimensione dell'accountability esterna ma al tempo stesso una riapertura lo si diceva ha un ruolo delle organizzazioni sindacali sebbene in termini appunto di partecipazione in questo contesto quindi in questa trasformazione ed evoluzione dei sistemi di valutazione il ruolo del dirigente evidentemente nella concezione del performance management questo ruolo doveva essere molto importante in quel controllo di gestione che ha come ricadute poi sui rapporti di lavoro essenzialmente il meccanismo dell'attribuzione delle premialità ovvero dell'applicazione della sanzione disciplinare l'idea del legislatore degli anni 90 è quella appunto di puntare alla costruzione della managerialità intesa come autonomia organizzativa e responsabilità e questa parola della responsabilità o questa parte della responsabilità che spesso si è rivelata carente nell'applicazione poi delle riforme del lavoro pubblico invece il legislatore degli anni 50 sceglie una strada diversa perché appunto istituendo il ciclo della gestione della performance ingabbia l'azione del dirigente pubblico perché non si fida il meccanismo l'esperienza precedente ce l'ha ricordato Santucci di quella concertazione che sfumava poi nella contrattazione e quindi il tema della negoziabilità dei poteri dirigenziali che si è spinto oltre il confine dell'organizzazione del lavoro ha naturalmente in qualche modo indotto il legislatore a quelle scelte di self-restraint che però hanno traducendosi in un meccanismo di iperleggificazione hanno in realtà come dire ridimensionato tanto l'azione dirigenziale quanto il ruolo della contrattazione collettiva. Cosa cambia con l'intervento della riforma Madia quindi nel 2017? In realtà l'articolo 9 del testo unico non viene modificato il ruolo della contrattazione collettiva nel definire gli istituti della partecipazione resta confermato ma viene modificato l'articolo 5,2 in quanto si ampliano le possibilità di partecipazione sull'organizzazione del lavoro e noi sappiamo che la valutazione del personale è uno strumento di organizzazione del lavoro appartiene a quell'area potremmo dire degiuridificata forse l'unica che ancora sopravvive perché già la micro-organizzazione viene spesso nell'esperienza concreta travalicata dai regolamenti di organizzazione che si estendono fino alla dimensione minima dell'organizzazione amministrativa quando mi sono permessa di scrivere nel mio libro in sintonia con alcuna letteratura amministrativa il limite della macro-organizzazione dovrebbe essere rappresentato dall'estituzione degli uffici dirigenziali e dopodiché lasciare spazio al dirigente per la sua autonomia. Nei contratti collettivi come viene recepito allora questo nuovo input che dà il legislatore del 2017? Ce lo ricordava Rosario Santucci, in realtà nelle due tornate 16-18-19-21 non ci sono grandi differenze la vera svolta l'hanno attuata i contratti 16-18 e con riferimento al tema che ci occupa o che mi occupa cioè quello del ciclo della performance i contratti collettivi prevedono che oggetto di confronto debbano essere i criteri generali qui Alessandro diceva ma che vuol dire qual è la differenza tra generali e non? è come macro e micro cioè un livello di maggiore ampiezza o minore leggerezza della definizione e il confronto in particolare poi viene definito nei contratti collettivi anche qui assistiamo sempre a questi contratti fotocopia cioè la prima parte dei contratti collettivi diversi comparti in realtà non ha una declinazione particolarmente differente e quindi con riferimento al confronto troviamo una definizione come un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello relazionale al fine di consentire i soggetti sindacali che sono i titolari della contrattazione collettiva integrativa di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alle definizioni delle misure che l'amministrazione intende adottare ora appunto per chi ha antica consuetudine con i contratti collettivi il confronto rievoca l'esame congiunto della prima tornata contrattuale 94-97 che poi è stato sostituito invece dalla concertazione sulla quale come già anticipavo ci sono state molte resistenze poi successive in quanto sostanzialmente si è risolta in una contrattazione camuffata che ha esteso la negoziabilità dei contenuti quindi questo confronto ricordando anche cos'era l'esame congiunto si presenta sostanzialmente con una consultazione rafforzata che offre nella logica della procedimentalizzazione la possibilità di tenere conto dell'opinione della controparte che è accompagnata da tempistiche e adempimenti precisi che sono ancora una volta rivolti a contingentarla poiché mi associo a quanti ieri mettevano in evidenza ma anche oggi che quando parliamo di partecipazione sindacale possiamo declinarla in senso ampio e ritenere che anche la contrattazione sia una manifestazione di partecipazione a proposito del sistema di valutazione importantissimo per quanto riguarda il suo collegamento con l'attribuzione di trattamenti premiali e la modifica introdotta dal 75 del 2017 a proposito del ruolo della contrattazione collettiva che può sostanzialmente stabilire le quote delle risorse destinate a remunerare rispettivamente la performance organizzativa e quella individuale quindi sostanzialmente si fa arbitro dell'articolazione del trattamento economico in relazione a quale peso assegnare a quella organizzativa o a quella individuale che nella costruzione del sistema per le ricadute premiali del sistema di valutazione ha sicuramente una grande incidenza forse persino più significativa questa norma sulla contrattazione integrativa che non quella sulla partecipazione un'ultima notazione dopo aver quindi tracciato l'evoluzione del sistema di valutazione dopo aver evidenziato come si è modificato il ruolo del dirigente a riguardo e cosa prevedono i contratti collettivi delle ultime tornate dopo la riforma Madia un'ultima osservazione, un'ultimo tassello a questa presentazione mi sembra opportuno farlo proprio con riferimento all'evocato Piau il piano integrato di attività e di organizzazione si colloca all'interno di questo disegno riformatore l'ennesimo se vogliamo della pubblica amministrazione che il Brunetta Bis come qualcuno ha detto aveva inaugurato e che poi ha trovato piena consacrazione oltre che nel patto per l'innovazione del lavoro pubblico che ci ricordava il professor Zoppoli anche maggior ragione nel sistema del PNRR il piano integrato di attività e valutazione si pone come obiettivo quello di costruire una pianificazione strategica delle amministrazioni di tipo unificato e soprattutto che è finalizzato alla creazione di valore pubblico dove il concetto di valore pubblico che non appare per la prima volta c'era già nelle linee guida della presidenza del Consiglio dei Ministri del 2019 è sostanzialmente la ricaduta dell'azione dell'amministrazione rispetto ai suoi stakeholders che sono tanto gli stakeholders interni e quindi il personale tanto gli stakeholders esterni e quindi gli utenti, i cittadini, le imprese in questa prospettiva il PIAO costringe l'amministrazione ad una valutazione strategica, una pianificazione strategica unificata perché assorbe al suo interno una pluralità di piani finora già previsti il piano della performance, il piano del lavoro agile, il piano del reclutamento il piano anticorruzione e qui come tutti sappiamo il Consiglio di Stato ha nella fase di valutazione preventiva come dire, sottolineato, evidenziato un caveat cioè il rischio della cosiddetta layer of bureaucracy quindi il rischio che le amministrazioni trasformino questa che deve essere una occasione io sono d'accordo con Alessandro Boscati che sia da valutare positivamente questa posizione se a meno che, con il rischio però, che le amministrazioni si limitino a giustapporre i documenti all'interno del sistema perché mi pare interessante il PIAO anche rispetto al tema della partecipazione perché proprio l'inglobamento di questi piani è vero che non c'è una previsione specifica di partecipazione sindacale sul PIAO ma esiste un sistema di partecipazione legato a quelli che erano i piani assorbiti nel PIAO e in modo particolare, a mio avviso, c'è quella forma di partecipazione istituzionale legata ai Comitati Unici di Garanzia e agli organismi per l'innovazione che ha una potenzialità importante perché questa è la fase in cui tu partecipi alla determinazione di che cos'è il valore pubblico quindi alla pianificazione strategica dell'amministrazione qual è il punto debole del sistema? Gli organismi partitatici dell'innovazione sono poco costituiti o poco attivi ma hanno anche un altro problema quello della sovrapposizione delle competenze in parte con i Cug anche per aspetti che riguardano il benessere organizzativo e soprattutto questi sono presentati come organi di garanzia come organi tecnici organismi tecnici e questo spesso determina quella mancanza di dialogo che diceva Sandro con le organizzazioni sindacali piuttosto che altre sedi in realtà a me sembra che siano luoghi privilegiati per la loro composizione paritetica per intervenire nella fase appunto della pianificazione o della partecipazione strategica ci hanno un problema fondamentale la formazione di chi li compone occorre un carico di competenze dentro la composizione di questi organismi anche da parte della parte pubblica non solo da parte dell'organizzazione sindacale che è determinante del successo del risultato ma tutto sommato i Cug dopo dieci anni e più di vita anche attraverso la creazione della rete in molte realtà stanno svolgendo un ruolo di partecipazione effettiva probabilmente per gli organismi dell'innovazione dobbiamo aspettare un po' di più ma la spinta alla digitalizzazione che sta nel PNRR potrebbe essere un'altra importante opportunità da accogliere vi ringrazio grazie grazie